Un bambino su 5 nella fascia dai 5 agli 11 anni in Italia ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti-covid, un numero ancora maggiore in Lombardia, dove l'adesione ha raggiunto il 36% in base agli ultimi dati forniti dalla regione. Per quanto riguarda gli adolescenti, in regione più di 9 su 10 hanno aderito alla campagna vaccinale. Le adesioni nelle fasce 5-11 anni stanno andando molto bene, sono al 36% e le adesioni nella fascia 12-19 sono al 91%, grazie al grande senso civico dei genitori e dei ragazzi. Per i bambini più piccoli al numero dei vaccinati si aggiunge anche una quota, pari ormai quasi al 6%, di bimbi che hanno contratto il virus e che sono guariti negli ultimi sei mesi. Per semplificare il percorso di diagnosi e cura dei più piccoli, soprattutto nell'ottica del monitoraggio delle scuole, la regione ha stipulato un accordo con i pediatri. La regione Lombardia ha firmato un accordo con ATS, con le scuole medie ed elementari e con i pediatri di libera scelta. L'accordo prevede che i pediatri adottino una scuola e siano presenti con almeno tre ore settimanali consecutive negli istituti scolastici per effettuare tamponi e dare consulenze. Oltre a questo i pediatri sono disponibili a effettuare tamponi nei loro ambulatori o presso i nostri centri massivi. È un progetto importante perché agevola le famiglie che potranno trovare assistenza direttamente nelle scuole.